E critica la situazione a Quacchieti dove questa mattina il presidente dell'ACA Giovanna Brandelli ha incontrato il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara per parlare anche alla città e spiegare quello che sta accadendo e potrà accadere in prospettiva. La scarsità di precipitazioni nevose e piovose dello scorso inverno hanno quasi dimezzato la risorsa idrica disponibile non solo per la città di Chieti ma anche per Pescara e per i comuni serviti dall'ACA. È una situazione simile a quella di Pescara, simile a quella di tutti i comuni serviti dall'ACA. Abbiamo 40% di risorsa idrica in meno e un fabbisogno quasi raddoppiato. Possiamo dire che è il momento più difficile a livello di risorsa idrica degli ultimi anni a causa di questi mutamenti del clima che stanno creando grossi problemi? È un momento difficile, molto simile a quello del 2021 che è occorso anche prima di quello del 2021 però quello che ci deve far riflettere è che questi due anni siccitosi arrivano a distanza di pochissimo tempo mentre invece l'ultimo anno siccitoso che ricordavamo era del 2007. Quindi prima c'erano 15 anni di distanza fra un evento, un'estate del genere e un'altra adesso soltanto tre. Quindi qualcosa è davvero cambiato. Che cosa si sente di dire ai cittadini di Chieti in questo momento? Che non sono soli e che Chieti comunque è la città che più di altre beneficia degli interventi strutturali per la lotta alla siccità. Chiaramente interventi strutturali che sono stati progettati da ACA, finanziati e che sono in corso di realizzazione che però porteranno beneficio appunto a partire dall'anno prossimo. L'ingegner Brandelli non ha nascosto la severità del momento, ci saranno razionamenti per il periodo estivo. Sempre di razionamento, sempre di sensibilizzazione a un consumo consapevole. Mi permetto solo di ricordare che in Italia consumiamo 70.000 litri di acqua ciascuno all'anno con una media europea di 30.000.